incredibile, l'abbiamo beccata, sei la festeggiata vero? no, sono io mi ha mentito questo qua, mi ha mentito sei tu il festeggiato? no, lei anche noi, no, sono di lei festeggiato abbiamo perso il festeggiato praticamente ragazzi, da dove venite? da Cazzago da Cazzago? e cosa festeggiate? il compleanno il suo cognato il compleanno il suo coesito dite come si chiama Marco, Marco allora, fatogli una dedica segreta visto che metterà il video sul sito del convegto ho insultatelo, va bene lo stesso? ma no, lei non insultiamolo tanti auguri Marco tantissimi auguri Marco non si dice il numero, non si dice l'età è una donna? no, no, ho detto non si dice l'età allora ditelo, tanto maschio non si offende non la so perfetto, ecco perché non si dice tu lo sai? no tu lo sai? no niente, va bene, abbracciatevi tanti auguri Marco da Cazzago eeeh fateli gli auguri auguri Marco bravissime, bravissime guata pericù pericù guata mi